buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde parleremo di concorso ventiquattro mesi ata domande dal 10 al 30 di maggio con novità nei vari profili domanda numero uno la presentazione della domanda per entrare nella gradatoria provinciale ventiquattro mesi del personale ata deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sì l'unica modalità di presentazione della domanda per l'inserimento del personale ata non di ruolo nelle gradatorie provinciali ventiquattro mesi e quella telematica pena l'esclusione dal concorso il servizio per presentare la domanda del concorso ventiquattro mesi è raggiungibile anche attraverso l'home page del sito internet del ministero dell'istruzione del merito www.miur.gov.it sezione dei servizi o in alternativa tramite il seguente percorso argomenti e servizi servizi online lettera i istanze online il servizio sarà attivo dalle ore 9 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del 30 maggio 2024 domanda numero 2 alcuni profili di assistenti amministrativi hanno svolto il servizio non di ruolo nella funzione di sga per gli anni scolastici 2019 2020 e 2020 2021 tale servizio può essere considerato come servizio svolto nel profilo di assistente amministrativo certamente sì a seguito del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della nota di gpr numero 4 0 7 6 9 del 13 settembre 2019 si rappresenta inoltre l'esigenza di prevedere nei bandi di concorso la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare i servizi effettuati in qualità di dsga nell'anno scolastico 19 20 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo la medesima possibilità deve essere prevista inoltre anche per il servizio in qualità di di dsga nell'anno scolastico 2020 2021 sulla base dell'intesa del 18 settembre 2020 che va a ricalcare l'intesa del 12 settembre 2019 terza e ultima domanda per entrare in una gradatoria 24 mesi è necessario aver prestato servizio per almeno 23 mesi 16 giorni nel medesimo profilo quali servizi sono validi per il raggiungimento dei 24 mesi vale il servizio prestato nelle scuole private il servizio prestato deve essere svolto nelle scuole statali e quindi non vale il servizio prestato nella scuola privata al fine del raggiungimento dei 23 mesi e 16 giorni si computa unicamente il servizio effettivo prestato di ruolo e non di ruolo presso le scuole statali con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione valle d'aosta e delle province autonome di trento e bolzano il servizio prestato nelle scuole all'estero certificato dalla competente autorità del ministero degli affari esteri e equiparato al corrispondente servizio prestato in italia il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico e assistente amministrativo nelle accademie dei conservatori di musica e negli istituti superiori delle industrie artistiche dello stato viene considerato valido ai fini della missione concorsi per soli titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 297 del 94 fino all'anno accademico 2002 2003 a decorrere dall'anno accademico 2003 2004 il servizio di cui trattasi poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola e assimilato al servizio prestato in altre amministrazioni per cui fino al 2002 2003 può essere considerato titolo dunque di servizio valido ma dal 2003 2004 invece no speriamo che con queste risposte alle domande che ci avete posto sul concorso 24 mesi siano state utili ai nostri lettori seguiteci ancora nei canali social facebook youtube nel nostro sito perché parleremo di questo argomento ma anche di tanti altri ancora arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti